Musica Oggi è un giorno speciale! Mamma e babba sono vestiti eleganti e io sono un piccolo principe che era un po' di più e che era un po' di più e che era un po' di più Vi voglio dire una cosa che mi ha colpito, è la tenerezza che vi appartiene, oltre che la sensibilità. Maria Teresa a ogni parola che dicevo quasi piangeva l'altra sera, ogni due minuti praticamente e poi guardavo gli occhi di Giovanni come guardava lei, come parlavano del loro matrimonio, come parlavano del loro bimbo. Oggi quando io e mamma siamo arrivati in chiesa, c'erano tanti fiori e tante persone. Io ho corso verso papà, lì abbiamo visto un papà che ci ha sorriso quando ci ha visti, ha detto che eravamo i suoi tesori più preziosi. C'era un signore con un grande libro, che ha detto tante cose che non hanno capito bene. Mamma e papà ci guardavano negli occhi e sorridevano tutto il tempo. Oggi è il giorno più bello da tutti e che ho capito che staranno insieme per sempre con i migliori amici del mondo. E questo mi rende il bimbo più felice di tutti. Oggi avete capito perché un giorno speciale? Grazie. Grazie.